Ogni puntata di Affari tuoi regala sempre piccoli siparietti che vanno oltre le dinamiche del gioco e regalano al pubblico momenti di leggerezza. Protagonista insieme ai vari concorrenti è Stefano De Martino che anche ieri, domenica 13 ottobre, come già successo di recente, è stato destinatario del commento malizioso di Fabiana che ha preso spunto dal significato nella smorfia del numero 16 per riferirsi al suo fondoschiena. «Se seguiamo la smorfia, il 16 è il numero più fortunato dei 90», ha detto Stefano parlando del pacco in questione con un riferimento al simbolo della fortuna associato al 16 e quindi al lato B. «Ed è stato allora che la concorrente si è lanciata nel complimento «Il tuo è bellissimo», commento che ha subito suscitato il brusio, le risate del pubblico ma anche la replica di De Martino. Senza proprio pudore. Ha scherzato lui imbarazzato. Poi, rivolgendosi al marito di Fabiana, di inamicizia. «Non mi esprimo», ha aggiunto ancora, alimentando l'applauso dei presenti che hanno assistito alla scena. Nella stessa puntata di ieri, un altro momento ha suscitato l'attenzione del pubblico, ovvero quello in cui Stefano De Martino ha scherzato sui soldi a disposizione del programma che non basterebbero più a causa delle tante vincite troppo alte, non so se avete notato. A furia di vincere non abbiamo nemmeno più i soldi per il pennarello. «Al primo assegno è già finito l'inchiostro, stiamo raschiando il fondo del barile», ha detto il conduttore con un riferimento che è sembrato una risposta alle recenti questioni sui sospetti che siano molte le vincite notevoli con risposte puntata dopo puntata negli ultimi giorni. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.